Good morning Milano! Buongiorno! Lunedì 11 marzo sono le 7.08, ben ritrovati sempre qui sulle frequenze di Crystal Radio 96.2 FM, Dub Plus app per iOS Android, sito internet e tutto quello che volete, cioè è impossibile non trovarci. Buongiorno ancora a tutti, inizia la nuova settimana, è lunedì, lo so, è per tutti lunedì, quindi cercheremo di tenere il livello e il ritmo alto, anche se credo che già alle 7.09, è un minuto che parlo, non ce la faccio già più, sono già stanco, è così, è così, lunedì funziona così. Voi che state facendo, dove andate, cosa farete oggi? 331-7853-555, datemi una mano perché è lunedì anche per me, lo so che anche per voi, quindi qui c'è qualcuno che ha lavorato nel weekend e quindi per cui oggi magari è un martedì o un mercoledì, non so come dire, tanto non cambia molto, ecco magari ci serve il vostro aiuto perché per noi è veramente, veramente difficile. Iniziamo una settimana in cui vedremo tantissimi ospiti arrivare qui in studio con noi, tante le rubriche che anche oggi andremo ad ascoltare, abbiamo il buon lavoro con Filippo Poletti e poi, e poi, 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 lo sapete, abbiamo anche il sommario di SentiQuest, e sì, Ambrogio Curti ci regala tutti i lunedì un piccolo riassunto di quello che nella settimana sentiremo dopo di noi perché Crystal Radio inizia con noi ma va avanti tutto il giorno, ricordatevelo, sintonizzatelo, salvatelo, mettetelo nei preferiti, fate quello che volete ma ascoltateci sempre perché tante, tanto, è la musica, le informazioni, le notizie che vi diamo su Milano e Città Metropolitana, qui a Good Morning Milano su Crystal Radio. Emma con apnea alle 7.13 minuti, sempre qui, Good Morning Milano, ben ritrovati, ben ritrovati, sempre qui a raccontarvi un po' quello che succede nella nostra città. Iniziamo subito, velocemente, dal Corriere della Sera perché leggiamo appunto come adesso è arrivata la tregua del maltempo, così viene praticamente titolato da qualunque giornale, ma, ma, tregua maltempo a Milano ma preoccupa il livello di Lambro e Seveso, attivata la vasca di Bresso per contenere la pioggia e così si, sembra che appunto, cosa dice, l'assessore della protezione civile dice, esondazioni a quota 3 metri, il Lambro al parco è arrivato a 180 centimetri, quindi non ha esondato, evacuate le comunità vicino al parco del Lambro, comunque, le comunità vicino al parco del Lambro, vigile del fuoco in azione in tutta la Lombardia, allerta Gialla a Milano fino alla mezzanotte, c'è stata appunto ieri sera questa allerta. Cos'è successo? Per la prima volta, da quando appunto è finalmente pronta la Benedetta Vasca, e non sappiamo bene poi se è pronta davvero, se è benedetto, no, anzi, spesso volentieri abbiamo avuto qui ospiti i comitati dei cittadini del Bresso Novasca, che raccontano una storia un po' diversa da quella che leggiamo oggi sui giornali, anzi magari lei sentiremo nei prossimi ore, sta di fatto che è stata attivata questa vasca, sì, la Maxi Vasca, e leggiamo anche da Repubblica Milano, la Maxi Vasca salva Niguarda dal Seveso, adesso mi sembra un po' troppo come titolo, ma vabbè, ma solo nel 2025 la città sarà fuori pericolo. Ebbene sì, per la prima volta attivato il bacino artificiale al confine con Bresso, Granelli dice abbiamo evitato l'esondazione del fiume. Il comune poi tallona la regione perché dice or completi gli altri vaschi, gli altri invasi. Entro fine anno saranno pronti quelli di Senago, poi lentato, poi lentate, scusate, e invece a Paderno il progetto è fermo. Questa è la richiesta appunto del comune verso Regione Lombardia. Cosa succederà però nelle prossime ore? Lo leggiamo da Corriere della Repubblica, Corriere Milano, leggiamo che dice che ci sarà vento forte a Milano, e smetterà però di piovere da martedì, quindi da domani, il tempo dovrebbe essere più stabile, ma di mattina ci saranno 5 gradi. Ebbene sì, perché ha piovuto per più di 10 giorni su Milano e Mattia Gussoni, appunto leggiamo da Corriere della Sera Milano, che è un meteorologo, dice forti raffiche di vento per essere in pianura. Abbiamo avuto raffiche fino a 50-60 km da sud-est a Milano e in provincia si è arrivati anche a 70 km. Allora, insomma, la situazione finalmente va a migliorare. Nella giornata di domani dovremo finalmente avere il bel tempo che arriva sulla città, ma attenzione che le temperature saranno comunque basse. Abbiamo visto per la prima volta anche funzionare, come dicevo poco fa, la maxivasca di Niguarda e io nei prossimi giorni voglio sentire il comitato di Niguarda che cosa dirà. Abbiamo avuto giornate difficili con il meteo e quindi di conseguenza difficili anche con il traffico. Sappiamo anche la situazione delle nostre strade. Dopo andremo a leggere medio anche l'aggiornamento della versione gruviera della nostra città, cioè tutte le varie buche che stanno tempestando le strade di Milano. Ma prima di andare a leggere le notizie sulle buche ci colleghiamo invece con una redazione di Luce Verde che fa che cosa? Ma semplicemente, è una cosa molto semplice che però per fortuna che fanno. Ci danno una fotografia, la situazione in tempo reale del traffico sulla nostra città, o meglio sulla nostra città e anche sulla provincia, perché sì, ogni strada è guardata dagli occhi villigi di Luce Verde. E quindi, a te Luce Verde! D'Argento Amico con Onda Alta. E perché dobbiamo parlare di acqua, sì, so che insomma non è proprio la stessa cosa e il gancio è un po' tirato, ma in questo caso stiamo parlando delle due buche nelle strade di Milano. E sì, perché leggiamo la Corriere della Sera Milano, il sindaco dice sarà sempre peggio e dobbiamo prepararci. Ore e ore per i rapporti, per i rattoppi sono triplicate. Le ore per i rattoppi sono triplicate. Solo nel primo weekend di marzo riempite 89 voragini. Sala dice, finché non smette di piovere è difficile fare interventi incisivi. A febbraio 20 volte la pioggia dello stesso mese del 2023, cioè è scesa 20 volte la pioggia del mese di febbraio del 2023. Sono tantissime le buche e una di queste, l'avete vista sicuramente sui social, ma lo racconto a chi magari è stato distratto in questo weekend, è stata quella in Via Lancetti. Cos'è successo in Via Lancetti? Il consigliere comunale Samuele Piscina ha fatto vedere questa buca. Peccato che, così dice l'opposizione, cioè la maggioranza in comune dice attenzione che quella buca però era fatta in un cantiere in una zona già chiusa al traffico della corsia preferenziale dei tram e degli autobus di Via Lancetti. Lui risponde, dice non è vero, non era chiusa, anzi, e dopo è stata chiusa, perché infatti se è andata adesso quella parte lì è chiusa, sta di fatto comunque che la voragine c'era. Adesso c'è un cantiere e altre comunque migliaia di voragini in giro per la città ci sono. Piscina che però non so se ha voluto distrarre l'attenzione da quello che era successo la settimana scorsa. Vi ricordate l'intervento in consiglio comunale quando ha parlato di transessuali e il consigliere Albiani l'ha attaccato? Bene, noi abbiamo raggiunto il consigliere Piscina e gli abbiamo chiesto però ancora un po' così di raccontarci cosa è successo. O meglio, prima abbiamo utilizzato, ci ha mandato anzi, il consigliere un video che ha postato su Instagram e lo vorrei ascoltare insieme a voi. Queste sono le parole del consigliere Piscina in risposta appunto alle varie polemiche sul tema della sua uscita verso... Beh, lo faccio sentire da voi. Visto il clima d'odio e le minacce di morte che mi stanno investendo, mi sembra giusto che a fare un minuto di chiarezza su quanto sia realmente successo e non tagliuzzato a regola d'arte per avviare la macchina nel fango. Infatti anche noi non taglieremo questo audio. Ho semplicemente risposto a quello che è l'intervento di un consigliere che diceva che in via Padova era stato sempre tutto perfetto e non c'era mai stato nessun tipo di problema. Ho riportato quello che è un episodio che ho vissuto in prima persona, che ho visto in via Mosso dove rappresento un racket di prostituzione da parte di persone transessuali e non lo dico perché ho qualcosa contro i transessuali, ma semplicemente perché è il tipo di racket che c'era in quel momento, in quegli anni all'interno di via Mosso, angolo via Padova. ha preso, in stato di totale alterazione, un cestino di quelli pesanti cominciando a tirare addosso le macchine. Ho dovuto chiamare ovviamente le forze dell'ordine. Sono uscite e in tutta risposta questa persona, in particolare stato di alterazione, si è tagliata con una bottiglia, ha succhiato il sangue e ha cominciato a sputare nella direzione delle forze dell'ordine, urlando, lei stessa, non immaginandomelo io, di avere il sangue infetto, così come detto da lei, e quindi di essere malata di H.E.W. Per inciso, il personaggio in questione era stato più volte segnalato alle forze dell'ordine, è stato più volte arrestato e quanto accaduto era di fianco a una scuola. Questo è quello che accadeva in via Padova ed è un dato di fatto che sia successo perché, lo ripeto, i verbali delle forze dell'ordine lo testimoniano. Estrapolato in questo modo, dal contesto, il racconto di un fatto che realmente è accaduto, lasciando volutamente intendere che Piscina e la Lega pensano che i transessuali siano tutti malati di H.E.W. è veramente piccolo, è aberrante, mistificatorio, nessuno lo pensa, nessuno lo ha mai detto e mi auguro che nessuno al mondo possa mai pensarlo perché qui non ci sono transfobi o omofobi. Ma veramente siamo ancora a questi livelli? Ma veramente nel 2024 facciamo ancora questi giochetti per demonizzare le persone, per avviare la macchina del fango? Per il fatto che l'unico motivo tale per cui è stato diffuso questo pezzetto fatto a regola d'arte apposta per avviare la macchina del fango sia quello del voler bissogliere l'attenzione su quanto è accaduto l'altra sera in via Padova, dove i centri sociali attaccavano le forze dell'ordine per impedire a noi di poter manifestare per chiedere maggiore sicurezza e al loro fianco, purtroppo, lì presenti c'erano due consiglieri di maggioranza. Io non avrei mai pensato che si potesse arrivare a questo ma a questo punto dovrò fare le mie valutazioni e portare la questione nelle serie opportune. Vabbè, qui si parla poi della parte del punto degli insulti che ha ricevuto il consigliere Piscina, sta di fatto che la situazione del distogliere, secondo me, anche sulle buche non è stata poi molto ben... ma io ho chiesto per Piscina, ma quindi, aspetta, di cosa stiamo parlando? Di quando risalgono questi dati, questi fatti di cui parli e soprattutto che cosa dici a chi ti dice che dovresti però scusarti? I fatti risalgono nel 2016. Ma io ho citato dei fatti, non ho insultato la comunità dei transessuali, quindi a me dispiace se qualcuno si è sentito offeso dalla mistificazione che è stata fatta. Però io non ho mai detto nulla di tutto ciò, quindi mi risulta veramente complicato chiedere scusa per un qualcosa che io non ho detto. È veramente, non lo so, aberrante dal mio punto di vista quello che sta succedendo. Ovviamente so che non si trasmette con lo sputo. Se hai sentito il mio video si dice che il trans si è tagliato, ha ciucciato il sangue, e ha sputato il sangue nella direzione. E quello stesso personaggio, transgender particolarmente alterato, diceva ho il sangue infetto. Non sono mie parole, non è un qualcosa che io ho, come dire, inventato, o robe di questo tipo. Tra l'altro sto ricevendo molta solidarietà da parte delle forze dell'ordine che ha subito quelle cose in quel momento in via Padova. Quindi veramente la gente pensa che possa essere un troglodita o robe di questo tipo. sono laureato, conosco, ho fatto scienze, ho fatto prima di scienze politiche un istituto scientifico, un liceo scientifico, quindi, come dire, conosco abbastanza la materia, non me lo deve spiegare nessuno. Io ho semplicemente riportato quello che è successo con quello che diceva il transessuale in questione, che è uno, non è la comunità intera dei transessuali. Ed ecco, questo è quindi quello che ha detto Samuele Piscina ai nostri microfoni, ha voluto raccontare meglio che cosa è successo e che cosa lui intendeva dire. Va bene, interessante anche il mezzo in cui ci racconta la sua carriera scolastica. Ricorda un po' avvicinate quel meteorologo dall'alto e le mie due lauree. Un po' quella storia. Comunque, io spero ci sia un po' adesso, un po' più di chiarezza, ognuno poi penserà e dirà quello che vuole, nel senso, noi vi facciamo ascoltare i fatti, poi voi vi fate delle opinioni. Piccola pausa, un po' di musica e poi andiamo di nuovo qui a raccontarvi tutto quello che succede nella nostra città. E adesso arrivano le Spice Girls con Viva Forever. E di nuovo qui, good morning Milano, eccoci qua ancora, 7 e 38 minuti, la nostra seconda mezz'ora inizia con un whatsapp che arriva al 3317853555 di Alberto che dice un saluto a Fabio e a tutti i cristallini, anche se oggi non riesco ad ascoltarvi. Pensa che è bravo, ci manda un messaggino anche se non ci ascolta. Grazie Alberto, troppo gentile, troppo carino, fatelo anche voi. Una cosa che ve lo sto dicendo vuol dire che ci state ascoltando, quindi non ha senso questo mio appello. Andiamo invece a leggere un po' di notizie su Repubblica Milano. Successo Book Pride, da lettori elettrici una spinta a fare di più. Ebbene sì, l'ottava edizione della Fiera degli Editori Indipendenti si chiude con un bilancio di 19.200 ingressi. Appuntamento tra un anno sempre al Superstudio Maxi. Book Pride, dalla Fiera, diciamo, chiamava Fiera, il momento, l'happening, chiamatelo come volete, dell'editoria indipendente con tutti gli editori, con tutti anche spesso interi delle biblioteche indipendenti che presentano tutto il loro catalogo, ma anche il catalogo ormai non solo più di libri, ma anche di eventi, di idee, di proposte per una città che ha sempre più bisogno di cultura e in cui forse non abbiamo idea bene di quanta cultura abbiamo e quanta ne muoviamo. Tanto che sempre da Repubblica Milano, leggiamo un articolo che è uscito qualche giorno fa che dice che c'è un viaggio, anzi una sorta di dossier hanno fatto quelli di Repubblica, viaggio nelle biblioteche milanesi, aperture fino alle 23. in un anno frequentate da oltre un milione di lettori, e sì perché sono stati 86.684 i cittadini che hanno preso in prestito almeno un articolo, perché si dice articolo? Perché non sono più solo libri, sono libri, riviste, DVD, anche CD e musicali ci sono in alcune biblioteche del comune e già questo sarebbe un numero interessante e positivo perché nel 2023 erano 85.000, nel 2023 sono 86.000, quindi un bel migliaio di persone in più che sono andate nelle biblioteche a prendere in prestito qualche cosa. Ma la cosa interessante è che secondo gli accessi stimati si parla di più di un milione di persone che abbia messo piede almeno una volta in una biblioteca nel 2023, parliamo di 21.600 accessi a settimana, questo perché? Perché dal luogo di studio ormai non sono più solo quelle biblioteche ma sono anche dei veri e propri centri di socialità, vettore di inclusione, così lo definisce il Corriere della Sera della Repubblica. Cosa succede? Che sono spazi ormai che sono dediti non solo appunto al cercare un articolo, cercare un libro, cercare un oggetto e prenderlo in prestito per qualche giorno e poi riportarlo, ma sono proprio, spesso, un entieri momenti di inclusione, di convegni, meeting, momenti culturali fatti proprio all'interno delle biblioteche. C'è un'intervista poi a Stefano Parise che è appunto il direttore dell'area biblioteca del Comune dove spiega bene qual è la logica, qual è la visione anche nel futuro delle biblioteche. Pensate che nel 2023 ci sono stati 4.136 eventi culturali organizzati nelle biblioteche, 4.136, non sono pochi, che hanno visto una partecipazione di 85.000 cittadini, 37% in più rispetto a quelli coinvolti nel 2022. San Giovanni con Finiscimi, che sarà forse quello che hanno detto i tifosi dell'Olimpia Milano, quando hanno visto, vediamo se ho detto giusto, 11 marzo, sì giusto, ok, non devo controllare bene quello, quando hanno visto ieri a un certo punto la propria squadra del cuore, l'Olimpia Milano, perdere contro la Virtus Bologna, ho detto beh basta, finiscimi qua che non ne posso più. Eh sì, perché ieri non è stata una bella giornata per l'Olimpia Milano che va a perdere 84 a 75 contro la Virtus di Bologna. Tutto altro tenore invece sulla sponda calcistica di Milano, perché entrambe le milanesi si portano a casa un weekend di successi, l'Inter vince a Bologna sabato per 1 a 0 e il Milan vince ieri in casa contro l'Empoli anch'esso per 1 a 0, ma questo non può aiutare i rossoneri ad avvicinarsi alla vetta della classifica dove l'Inter sta ben saldo con 75 punti contro i 59 del Milan che è solamente un punto sopra alla Juventus, 58 e che sotto ancora poi troviamo il Bologna con 51. Queste sono le prime 4 in classifica con questi 16 punti che insomma a marzo incominciano ad essere abbastanza tanti, troppi forse anche, forti sicuramente. 16 punti di distacco tra la capolista Inter e gli inseguitori di Milan. Diciamo che c'è questo duo Milan-Juventus che li segue di tallona, ma li tallona molto molto lontani, cioè si tallonano tra di loro ma sono molto molto distanti dalla vetta con l'Inter. Weekend appunto sportivo, quello di Milano che ha visto come già detto appunto il calcio uscire vincitore e invece il basket, questa Olimpia che continua a fare un po' l'altalena su e giù e che si porta a casa questa sconfitta in quel di Bologna. C'era una sorta di cosa incrociata perché anche l'Inter era Bologna ma invece contro il Bologna appunto ha vinto e invece l'Olimpia che era a Bologna contro la Virtus ha invece perso. 3317853555, arriva un altro Whatsapp, ciao Fabio, vi ascolto e riesco pure a salutarvi nello stesso tempo, pensate che roba, che grandi ascoltatori che abbiamo, firmato l'ascoltatore multitasking. Grazie mille allora ai nostri ascoltatori multitasking che sono capaci di fare ben due cose contemporaneamente, io vi auguro che ne sapete fare anche una terza perché molti di voi ci ascoltano dall'auto quindi mi auguro che siete capaci di ascoltarci e anche guidare senza fare danni, quindi mi auguro non scrivere, ecco se io vedo che non arrivano Whatsapp non mi offendo, so che state guidando quindi ci mancherebbe, scrivetecelo quando vi fermate o se avete una piccola pausa per il caffè lungo la strada che voi fate, se non fa niente, come se aveste fatto, vi ringrazio comunque 3317853555 è il nostro numero a cui potete scriverci tutto il giorno, anche dopo quando finiamo perché poi comunque ci sono le altre trasmissioni, vi ricordo che noi siamo sempre in onda e siamo sempre qua su Crystal Radio con Good Morning Milano dalle 7 alle 9 ma dopo ci senti questa e poi dopo c'è tanto altro, abbiamo anche Crystal All Stars, il pomeriggio si parla di sport con Stefano, insomma ci sono tantissimi programmi che potete ascoltare tutto il giorno qui su Crystal Radio, il mio consiglio, in macchina, sintonizzatevi col Dub Plus tanto è semplice, ma sul cellulare, scaricate la nostra app, comodissima la cliccate, aprite e ascoltate sempre in diretta la grande musica di Crystal Radio musica che ci porta in questo momento a Sanremo con, eh beh, lui è Joliet con Ipem Tupet Ipem Tupet, Joliet, 7.52 minuti di oggi lunedì 11 marzo è lunedì, è difficile per tutti, lo so, non vi preoccupate, arriveremo sani e salvi al venerdì anche questa settimana, pensate, tutte le settimane pensiamo non ce la faremo, pensiamo che sarà la settimana più difficile del mondo e invece lo è, però invece non sarà, invece poi alla fine arriviamo tranquilli il venerdì, vedete, cioè è solo psicologico, è una sudditanza psicologica verso il giorno del lunedì, no? Pensate, è diventato il Blue Monday che ci siamo lasciati alle spalle a gennaio ma alla fine della fiera, diciamo che ogni lunedì è una sorta di light Blue Monday una sorta di azzurrino, non proprio blu ma azzurrino, potremmo dirlo così, va bene, ma io vi ripeto sappiate che arrivate sani e salvi comunque a venerdì, comunque andrà, arriveremo salvi lunedì, sappiate, ricordatevelo, questo è importante ricordarcelo tutti lunedì, come è importante anche dirci quanto è importante augurarci un buon lavoro per la settimana che viene e chi lo fa meglio di me? Sicuramente lo fa Filippo Poletti, top voice di LinkedIn che ci racconta tutto quello che ruota intorno al mondo del lavoro, soprattutto le buone notizie del mondo del lavoro con le buone parole del buon lavoro di Filippo Poletti. A te, Filippo, buon lavoro! Buon lavoro a tutti. La prima parola della settimana è congratulazioni, bellissima notizia, la nomina di Grazia Vittadini a nuovo Chief Technology Officer di Lufthansa, la compagnia aerea tedessa che fa parte di Star Alliance. Liceo classico al Berset di Milano, laurea in ingegneria aeronautica al Politecnico di Milano, Grazia ha scalato diverse aziende europee. Ricordo di averla intervistata su LinkedIn nel 2022. Grazia mi disse, mia mamma mi ha insegnato a non dire mai non posso. Bellissima testimonianza. Buon lavoro a Grazia a Lufthansa. La seconda parola chiave della settimana è cartellino. Addio alla timbratura. AIMCD Italia, l'azienda che si occupa di prodotti chimici e che ha sede a Milano con 156 dipendenti. Ha detto l'HR Giulia Bedini. Ci impegniamo a creare un futuro in cui ogni persona possa trovare un ambiente a misura d'uomo. Dunque benvenga la fiducia in azienda e benvenga in tutti i posti di lavoro un ambiente a misura di persona. La terza e ultima parola chiave della settimana è ferie. Smaltisci le ferie ti do 350 euro. Lo prevede il nuovo contratto di Unipol. Le ferie servono per ricaricare le energie psicofisiche. Lo dice l'azienda. Dunque benvengano le ferie e benvenga l'armonia tra vita privata e lavoro. Buon lavoro a tutti. She loved you, yeah, yeah, yeah. Chi conosce questa canzone sa cosa sto facendo. Comunque 8 e 0, 10. No, 8 e 10. 8 e 10. Tonde tonde. Questo era il Crystal History delle otto. Erano i Beatles con All You Need Is Love. Canzone che ahimè è stata rovinata dalla televisione italiana per chi ha la mia età soprattutto. Perché quando parte questa canzone a tutti viene in mente Stranamore. Tutti. Cioè non sfido chiunque a non farsi venire in mente la grandissima trasmissione con Alberto Castagna, Stranamore. Se non l'avete vista, ma sicuramente l'avete vista che va ancora in onda su Mediaset Extra, da quei canali del Digital Eterrestre secondo me. Quindi ci sono ancora. Prima della pausa invece abbiamo sentito Filippo Poletti e al 3317853555 arrivano messaggi legati proprio al mondo del lavoro. Buongiorno e buon lunedì a tutti. Io sono tra i pochi fortunati che i lunedì sono abbastanza sereni perché amano alla follia il proprio lavoro. Vedete? Oh, che bello sentire che qualcuno ama la follia il proprio lavoro. Beh, è un po' quello che succede anche qui in redazione. Parlo per me, ma credo di parlare anche a nome di chi sta al di là del vetro. Insomma, quanto ci piace fare questo lavoro e quanto ci piace raccontare e avere la possibilità di comunicare con voi tutte le mattine. Anzi, io ringrazio coloro che in questo momento ci stanno seguendo anche su TikTok perché sì, c'è anche il profilo TikTok di Good Morning Milano dove ben 600 e qualcosa mila persone hanno visto e guardato il bellissimo, divertentissimo, non vi dico, TikTok in cui la redazione reagisce alle canzoni di Sanremo. Vabbè, andate a vederlo, è divertente. Sì, insomma, sta tutta farina del sacco della redazione. Io non centro assolutamente niente, quindi vorrei prendere anzi i meriti di questo ottimo risultato, ma in realtà invece mi dissocio da tutto questo. Complimenti invece alla nostra redazione che ha fatto questo bellissimo TikTok che sta girando. Insomma, ogni tanto qualcosa di carino, vedete, arriva anche da qua. Pensate un po'. Comunque, noi siamo qui in diretta fino alle 9, ve lo ricordate? Ve l'ho già detto, siamo qua, vi raccontiamo tutto quello che succede nella città e ad esempio, ricollegandomi al messaggio di poco fa, che dice appunto, sono tra i pochi fortunati che lunedì sono abbastanza sereni perché amano alla follia il proprio lavoro, chissà se lo amano ancora il proprio lavoro quelli di Milano Ristorazione, perché sta succedendo davvero di tutto. Plastica nel pane e insetti nella crema di verdure. Pensate voi, nuovi controlli dei NAS sui pasti serviti alle scuole da Milano Ristorazione. Eh sì, sono arrivate le scuse del sindaco Sala, ma nelle chat dei genitori, che secondo me dovrebbero essere vietate per Costituzione, proprio c'è un articolo della Costituzione che vieta questa istituzione delle chat dei genitori che sono deleterie. Comunque, ovviamente in queste chat si diffonde l'allarme e aggiungo io anche l'isteria, sicuramente, perché ne ho viste di ogni so di messaggi che girano già prima di questo problema, quindi immagino adesso che cosa succeda. È successo questo anche, abbiamo raccontato dei due pezzi di plastica ritrovati a pochi giorni in distanza l'uno dall'altro all'interno dei panini e poi è arrivato anche quella dell'insetto da una blatta dentro a una crema di verdure appunto serviti da Milano Ristorazione. Cosa succede? Le chat di classe sono infuocate e in tanti si rivolgono alla rappresentanza cittadina delle commissioni mensa per avere informazioni. Nel frattempo il sindaco Sala si scusa e ha ovviamente incominciato a sguinzagliare tutti i commissari possibili e immaginabili, gli ispettori possibili e immaginabili per capire dove nasce questo problema, cioè qual è il tema? Dove nasce questo problema? C'è sempre stato? È una questione di poco? È una questione di qualcosa che c'è sempre stata? Non lo so io, chissà se appunto lo capiremo insieme nei prossimi giorni. Sta di fatto che al momento è una di quelle zone attenzionate, così potremmo dire, quella della ristorazione milanese perché davvero tutti quanti sono in allarme, soprattutto le famose comunque, come diciamo prima, chat dei genitori. Nina Zilli mi hai fatto fare tardi e avete fatto sicuramente tardi questa notte guardando invece gli Oscar, lo so già, molti di voi l'hanno fatta, dopodiché mi spiegate perché gli Oscar vengono fatti domenica sera e non di sabato sera? Perché li fanno di domenica? È questo che non capisco, perché domenica è anche là, adesso fuso orario, quello che volete, ma è domenica anche a Los Angeles, cioè non è che è sabato a Los Angeles, perché è di domenica? Qualcuno me lo sa dire, me lo so spiegare, 3-3-1-7-8-5-3-5-5-5-5, perché gli Oscar vengono fatti domenica? Se lo facessero il sabato io guarderei volentieri anche, a domenica non è che posso guardare, a prescindere dal fatto che devo alzarmi alle 5 e mezza a 6 per venire qui in radio, ma non è che posso mettermi via a guardare una roba che finisce dentro alle 4 e mezza di notte se non più tardi. Per fortuna ci sono gli articoli di giornale che ci raccontano appunto chi ha vinto, chi ha vinto i vari Oscar. E allora, miglior film lo sapete già, l'avrete sicuramente già visto, letto ovunque, Openheimer, vince su tutti, sbaraglia la concorrenza. L'attore protagonista, Cillian Murphy, Openheimer, sì, quello di, come si chiamano di Peaky Blinders, proprio lui, sì, è proprio lui, che si porta a casa all'Oscar, l'attrice protagonista, dove sappiamo, grande, come si dice, polemiche perché non c'era l'attrice di Barbie, ma si porta a casa. Invece, devo dire, credo molto meritatamente, a parte del fatto che non ci fosse Barbie dentro in questo trittico, no, uno, due, tre, quattro, cinque, sestina, sestina di candidate, no, cinque, scusate, cinque, quindi cinquina di candidate, non c'era appunto Barbie, ma c'era Emma Stones che si porta, Emma Stone che si porta a casa con, povere creature, l'Oscar come attrice protagonista. La regia va a Christopher per Nolan per Openheimer, l'attrice non protagonista va a Davine Joy Randolph per The Old Lovers, questo non l'ho visto, Old Lovers, non l'ho visto, mi spiace, chiedo scusa. Invece l'attore non protagonista per il, a me piace tantissimo, Robert Downey Jr., che se lo porta a casa con Openheimer anche lui, Openheimer si porta a casa un po' di Robert. Costumi invece, povere creature, per il suono invece la zona di interesse, che tra parentesi avvince anche, se non sbaglio, con l'Oscar sì, infatti l'Oscar come miglior film straniero, colonna sonora, colonna sonora Openheimer come colonna sonora totale, invece la canzone, poi vedremo che se la porta a casa invece il film di Barbie con Billie Eilish, sceneggiatura non originale American Fiction e sceneggiatura invece originale, anatomia di una caduta. Diceva appunto la canzone originale, quella What Was I Made For da Barbie di Billie Eilish e il film internazionale, che adesso non c'è più, un miglior film straniero, ma si chiama film internazionale, quindi noi italiani con Io Capitano eravamo in questa cinquina, se lo porta a casa invece la zona di interesse battendo uno forse dei favoriti che era Perfect Days, il film giapponese è quello sul tizio che va a pulire i bagni, in realtà quello è l'inizio, poi in realtà è molto più sviluppato come film, ma per farvi capire insomma quella roba lì. Povere creature si porta a casa anche make up e die style, si porta a casa anche quello, si porta a casa anche le scenografie, sempre anche quello per povere creature, il montaggio invece va a Openheimer, la fotografia va a Openheimer, anche quello. Insomma Openheimer e povere creature praticamente si portano a casa quasi tutto, loro due, beh insomma se non li avete visti sicuramente ritorniranno nelle sale in questi mesi, perché c'è in queste settimane, anzi molto probabilmente di solito la settimana dopo gli Oscar ritornano tutti i film che hanno vinto, in modo che li possiate rivedere se per caso ve li siete persi, oppure riappassionarvi se per caso invece li avete già visti. E credo che in questo caso non sia un caso se avete visto questi film, perché davvero sono stati grandi, grandi film. Pink, all out of fight, e si va avanti, si va avanti qui con il racconto della città, piccola nota personale, ho scoperto che i famosi parcheggi di corrispondenza delle metropolitane milanesi chiudono di notte. Allora vi dico questo perché, perché il parcheggio di Lampugnano dove arrivano gli autobus, i flixbus, dove arrivano tutti gli autobus internazionali che arrivano da ovunque parte del mondo, dalla Calabria, dalla Sicilia fino a Caponord, praticamente arrivano tutti lì, ci sono pullman che arrivano di notte e quindi uno magari lascia la macchina, prende il pullman per andare dove deve andare e poi torna dopo tre giorni e ripiglia il pullman, ripiglia, cioè mola il pullman e ripiglia la macchina se ne va via. Peccato che se il vostro pullman arriva dopo l'una di notte trovate il parcheggio chiuso fino alle cinque e mezza del mattino. Sì, c'è questa cosa che non ha completamente senso, cioè posso dire che è peggio di quella roba che le bike me non si possono prendere di notte, cioè ma che senso ha fare, ma soprattutto quel perché allora altri possono anche concepirlo, ma che senso ha fare questa roba qui, cioè se ho dei pullman che arrivano, cioè quelli dell'aeroporto sono aperti sempre di parcheggi, ok? Perché se arrivano di voli alle tre del mattino uno sa come fare, ma se il mio pullman arriva alle due di notte, com'è che lo trovo chiuso? Perché vi sto dicendo questo? Perché 3317853555 mi è arrivato un whatsapp che dice, è assurdo infatti, l'ho scoperto sulla mia pelle, dicevamo di questa cosa, del fatto di chiudere il parcheggio in Ampugnano all'uomo di notte. Meno male che ci sono sempre poi dei tassisti, ok, capito, però insomma, in più se trovi chiuso paghi, fino a ci sono dopo, quindi sono altri 7,50 euro di, sì, 7,50 euro, quindi insomma, vedete voi. Beh, queste sono sempre le solite idee malsane di ATM, credo, perché non so chi è che gestisca, sì, ATM che gestisce, o comunque che è in gestione, poi non so bene chi gestisca qualche operativa, sta di fatto comunque che ATM, cioè questa cosa sistemiamola, se ci sono i pullman che arrivano alle tre di notte, io devo poter andare a prendere la mia macchina. E il capolavoro di il volo questo, molti dicono che era questa che doveva andare all'Eurovision, io ho sentito tanti dire questo, ma devo dirvi la verità che ieri mi sono ascoltato quasi tutte le canzoni dell'Eurovision, 35 canzoni degli estratti, ma di alcune me ne sono proprio guardate, allora devo dire che secondo me Angelina Mango parte in buona posizione, nonostante ci sia un'altra canzone, quella del Lussemburgo, che è molto simile a quella di Angelina Mango, cioè non è simile come canzone, ma come mood, come attitudine anche della stessa cantante, una ragazza molto giovane, anche lei, c'è una sorta di balletto, c'è un po' di sound sotto, che non è una cumbia ma comunque latineggiante, ci sono gli stacchi e i drop come nella noia di Angelina Mango, quindi attenzione al Lussemburgo, c'è di buono che posso dire una cosa cattivissima, non li vota quasi mai nessuno il Lussemburgo, quindi dovrebbe andarci di gran lusso per quello. Attenzione invece alla Francia, porta una canzone da pelle d'oca con un cantante, con un nome che non mi ricordo, ma che è pazzesca, quindi attenzione alla Francia, di altro devo dire che al momento non ho trovato niente di grandissimo, quindi secondo me potrebbe, potremmo, potremmo, non succede ma si succede, come si dice in questi casi, sarebbe qualcosa di eclatante. Parlando di musica, di capolavori, ovviamente il grande capolavoro di Cristian Radio cos'è? Good Morning Milano, no, non solo, dopo di noi, Ambrogio Curti con SentiQuesta e di che cosa parla SentiQuesta? Di quali capolavori ci parlerà questa settimana? Ambrogio Curti lo scopriamo direttamente dalla sua viva voce, perché come tutti lunedì arriviamo a un momento in cui ci fa una sorta di recap, di index, di indice delle puntate prossime, sapete di solito cosa vi siete persi la settimana scorsa? No, invece cosa riscate di perdervi questa settimana se non ascoltate SentiQuesta dopo di noi alle 9.05? E questo era il sommario di SentiQuesta con Ambrogio Curti che insomma tutta la settimana ci darà grande musica, la grande musica che potete sempre ascoltare qui su Cristiano Radio in tutto il giorno, lo abbiamo detto in FM 96.2, Dub Plus, l'applicazione per iOS e Android e anche come dico sempre vi do questo consiglio, io ve lo do, poi non fatelo, non fatelo a casa, don't try this at home, voi aprite il sito, fate finta di essere in call, quindi vi mettete le cuffiette in ufficio, poi iconizzate il sito, voi fate finta continuamente di essere in call, di ascoltare cose importantissime dell'ufficio, invece vi ascoltate Cristiano Radio, così io ve lo do come consiglio, non si sa mai. Cristiano Radio che vi ricordate è stata anche a Sanremo, dove abbiamo raccontato in diretta quello che succedeva durante la finale, ma tutte le mattine dal nostro studio di Viale Mazza vi raccontavamo quello che erano i sentiment della Sala Stampa, del Piazza Colombo, dell'Ariston, insomma eravamo vinciti tutto il giorno a cercare un po' di cogliere qua e là e tra questo cogliere qua e là abbiamo sempre incontrato i grandi artisti, tra cui quel duo di Matti che sono Francesco Renga e Neck che appunto hanno presentato la loro canzone fantastica, ma insomma quella canzone lì è figlia di una loro collaborazione che nasce ben più dietro, o meglio di anni ormai di grande amicizia e quindi andiamo ad ascoltarci un pezzo di Francesco Renga in cui ovviamente c'è anche il suo grande amico Neck, stiamo parlando dell'infinito più o meno, no non è che ho sbagliato, si chiama così, l'infinito più o meno. Francesco Renga, Francesco Renga, l'infinito più o meno insieme a Neck, 8 e 47 minuti, Cristiano Radio, vi ricordo il nostro numero di Whatsapp che è il 3317853555, grazie per i Whatsapp che stanno arrivando, Francesco ci fa un grande augurio di una buona giornata, un buon lunedì, dai che è solo l'inizio ma andremo tutti bene questa settimana, così scrive Francesco, grazie, infatti come dicevo dai teniamo duro che la settimana è appena iniziata, ma sarà sicuramente una grande settimana di successo, grazie anche a Maria che ci scrive sempre al 3317853555, grazie della musica e della compagnia che ci fate in questo lunedì che ha bisogno di tanta energia per essere affrontato, grazie mille a Maria e ai suoi Whatsapp. Energia che io cerco di darvi anche con la musica, allora non voglio perdere tempo e farvi perdere in chiacchiere, ma anzi tenere alto il vostro morale con un po' di musica, loro sono Sophie and Giants con DNA, così che il vostro DNA abbia un'iniezione di adrenalina alle 8 e 48 del mattino di oggi lunedì 11 marzo. Io penso di aver dato un po' di energia, no? Dai ce l'avete fatta? Allora DNA con Sophie and the Giants con DNA, oggi è lunedì quindi avete bisogno di tanta energia, altra energia che può arrivare dal cantare invece le canzoni, quante sono le canzoni che sappiamo così quasi non si sa neanche noi perché ma appena partono le riusciamo a cantare, non so se avete visto, appunto in regia succede spesso questa cosa, sono canzoni improponibili che partono dalla gente, in regia le ragazze qui nella redazione della regia riescono tranquillamente a seguirle, ad esempio sul volo c'è stata una stand innovation, un canto che ha riempito lo studio di ragazze canterine, insomma in realtà era solo viola però fa niente. Comunque quante sono appunto queste canzoni, quelle canzoni che io definisco un po' da ultima fila del pullman, sapete quando si va in gita ci si mette in fondo sul pullman, non so se si fa ancora, non so se le nuove generazioni lo facciano ancora. Alla mia epoca, pensate cosa sono arrivato a dire, si faceva, si metteva in fondo, magari qualcuno aveva pure una chitarra, poteva succedere, noi poco, noi avevamo già lo stereo in realtà, con le cassette play e via di canzoni, oppure si andava dal conducente dell'auto e dice, senti metti su questa canzone qui e intanto si cantava in fondo. E ci sono canzoni che sono senza tempo, canzoni che si cantano comunque, cioè Antonello Venditti praticamente lo canta chiunque, oppure non so un Francesco De Gregori, quelle canzoni che cantano un po' ovunque, uno di questi sicuramente è Lucio Battisti, ebbè come non cantarlo, ci sono quelle più o meno famose, più o meno cantirecce, ma sicuramente c'è una che comunque non è una delle più famosissime, ma viene comunque cantata. Sto parlando di Lucio Battisti con 10 ragazze, qui alle 8.52 su Cristal Radio. 8.55 minuti, bentornati qui in diretta, ma soprattutto ben ritrovati ai saluti finali. E mi piace salutarvi sui saluti finali in questa maniera come se fosse un inizio, così, perché per molti di voi l'inizio della giornata, per me va a finire questa ennesima e bellissima puntata passata insieme a voi, ma per voi l'inizio della giornata, e quindi benvenuti in questa giornata. Dopo di noi, Ambrogio Curticon, senti questa la grande musica internazionale e nazionale raccontata dalla sua bravissima e competitissima, competentissima, magari anche competitiva, non lo so, però sicuramente è competente. Noi ci risentiamo domani, ma adesso poi vi dico tutto quanto per sapere bene come fare ad ascoltarci e dove soprattutto. Eh sì, perché c'è anche il sito goodmorning.milano.it, aggiornato praticamente quasi in tempo reale della nostra bravissima produzione e potete trovare tutto quello che succede nella nostra trasmissione. Noi torniamo domani mattina alle 7, qui in diretta su Crystal Radio, dalle 7 alle 9, e diamo anche il benvenuto alla nostra nuova produzione Elisa che è arrivata oggi, inizia oggi la nuova avventura, grazie mille, ma poi abbiamo modo anche di salutare Viola, perché sì, Viola ci saluterà, ma abbiamo modo nei prossimi giorni. Ciao!